Buongiorno ragazzi, come ti chiami? Buongiorno, Virginia Virginia, e tu? Yad E tu sei iscritta al primo anno del? Scientifico tradizionale E tu? Io lo scientifico tradizionale Bene, cosa vi aspettate da questa nuova scuola? In realtà ho grandi aspettative, mi aspetto di trovarmi bene in generale e poi di fare anche tanti laboratori, da sempre mi ha ispirato questa scuola Vedrai che i tuoi desideri verranno soddisfatti, e tu? Io sono molto emozionato perché penso che sarà un anno bello e con molta istruzione, anche perché ho fatto apposta questa scuola, perché mi piace E in generale sono molto emozionato di entrare, a far parte di questa famiglia Presi, allora ci sono grandi aspettative da parte dei ragazzi, lei ha il suo primo incarico in un istituto superiore, quindi una certa emozione anche da parte sua? Certamente, è il primo giorno di scuola anche per me, carissimi Mi sono insediata da pochi giorni, già l'impatto è stato molto positivo con la comunità educante, con il personale ATA Siamo tutti ben presi da spirito di collaborazione, affinché in questa scuola possiamo condividere quella che è la visione più importante, cioè l'ottica del miglioramento continuo Questa scuola è attesa anche da una grande novità, cioè dal potere di sporre di nuovi locali, facciamo il punto anche su questo Dunque noi stiamo attendendo la consegna dei locali da parte dell'ente proprietario, che come sapete è il consorzio, il libero consorzio di Agrigento Questa consegna seguirà al collo autotecnico, i tempi ancora non sono certi, è bene dirselo, però ci siamo La grande opera di architettura è pronta, questo edificio va a congiungere le due ale di via Parma e via Pagenza E rappresenta sicuramente lo sviluppo anche di quelle che sono state le idee creative di qualche anno fa, dobbiamo dire Ma finalmente il sogno di un liceo scientifico, del liceo linguistico e delle scienze umane con locali a disposizione per la didattica E anche fruiremo di uno spazio eccezionale che è l'auditorium, sia per le riunioni che per gli incontri e gli spettacoli di vario genere Quindi siamo ben ottimisti su questo fronte Per concludere, questo nuovo anno scolastico presenta alcune novità Innanzitutto è il primo dopo il completo superamento, anche se le notizie degli ultimi giorni qualche preoccupazione alla danno per quanto riguarda l'emergenza Covid E poi è stata introdotta anche qualche novità, lei come valuta tutto questo e questo è un momento attuale? Ma ce lo siamo ricordati in collegio dei docenti, il ministero a differenza dello scorso anno in agosto il 5 mi ricordo del mese aveva promulgato una circolare Che metteva in guardia e diceva che ci metteva in guardia e ci orientava verso la prudenza massima E diceva siate pronti a quello che può succedere, quest'anno nulla di tutto questo, non ci preoccupa la situazione Però nello stesso tempo ci siamo detti in collegio dei docenti e anche in consiglio d'istituto di continuare ad essere prudenti Di mantenere l'etichetta respiratoria, ora lo diremmo ai ragazzi, l'aerazione dei locali, le buone abitudini che abbiamo acquisito durante la pandemia sicuramente Vanessa, primo giorno di scuola, cosa ti aspetti da questo liceo? Sono molto emozionata perché comunque è il primo anno di liceo linguistico Spero di trovarmi bene sia con la classe, con i professori, sia con l'istituto in generale E sono molto contenta, però sempre ho un po' di ansia perché comunque è una nuova scuola, un nuovo anno scolastico Però spero di stare bene